Vediamo come inserirsi per una classe di concorso a fare domanda per una classe di concorso con un titolo di accesso alla laurea e i tre anni di insegnamento di cui almeno uno nella disciplina scelta per il concorso negli ultimi cinque anni in scuole pubbliche. Andiamo all'azione disponibile, facciamo aggiungi, scegliamo la classe di concorso per esempio arte e immagine, aggiungiamo e andiamo a dire titolo di studio semplice, che poi se non hai tre anni con il titolo di studio semplice non potresti entrare, per cui questo ti darà l'opportunità di dichiarare i tre anni e poi dire che il titolo è conforme a quanto previsto dal DPR 19 del 2016 e su sue successive modifiche e integrazioni. La laurea per esempio vecchio ordinamento, si sceglie la laurea in architettura e poi si mette la votazione, si mette la votazione che verrà immediatamente portata in centesimi. la data di conseguimento del titolo il luogo di conseguimento, l'università mediterranea di Reggio Calabria. Si fa salva e immediatamente si attiverà, oltre ad aver inserito la classe di concorso, l'obbligo di inserire i tre anni per completare il titolo di accesso, perché il titolo di accesso viene completato con l'inserimento dei tre anni e per cui si andrà a inserire con la tipologia di titolo di servizio ai fini dell'accesso. Si andrà a inserire e si metteranno gli anni di riferimento 2019-2020 Si dirà che istituzione scolastica statale, condizione necessaria e obbligatoria, si dirà per la classe di concorso per cui si chiede accesso. Almeno uno dei tre anni deve essere così fatto. Dall'1 settembre al 30 di giugno 2020 La rinominazione della scuola IC SIGO in Reggio Calabria Comune Reggio Calabria E quindi facendo salva vi dirà la macchina che servono tre anni e non uno, per cui dovrete proseguire a inserire gli altri due. Allora dovete andare a richiedere di nuovo titolo di accesso, fare aggiungi nuovamente, vedere l'anno di riferimento, per esempio l'anno in questo caso 2021-2022 Scuola statale classe di concorso facciamo la 17 data di inizio dall'1 febbraio del 22 continuativamente fino al 15 giugno siccome non ci sarebbero i 180 giorni bisognerà slasciare il servizio prestato con continuità e dunque dire questo è istituzione scolastica educativa denominazione liceo a Reggio Calabria comune di Reggio Calabria a questo punto si andrebbe ad aggiungere un ulteriore titolo e dunque di nuovo si fa l'ultimo titolo aggiunto si va a mettere l'ultimo anno 2022-23 tipologia del servizio scuole statali classe di concorso la 01 a questo punto diamogli come dall'1 settembre al 31 agosto C Vitrioli scuola di Reggio Calabria la provincia di Reggio Calabria e il comune e anche questo Reggio Calabria stavolta facendo salva noterete che i titoli di servizio sono stati praticamente convalidati e adesso si ha proprio un titolo di accesso poi ci sono altri titoli importanti come altri titoli per esempio si accede e per esempio se uno ha una seconda laurea nel punto B46 nel punto B46 si può inserire una seconda laurea per esempio una laurea che non dà accesso alla dunque non alla laurea di architettura ma una seconda laurea per esempio una laurea in matematica scendendo scendendo si trova la laurea in matematica conseguita un'accademico conseguimento 1992 93 data del conseguimento il 18 giugno del 93 università di Messina qui non serve il voto perché dà diritto e dunque facendo salva in sostanza si sono dati anche altri titoli tornando alla compila le sezioni si possono inserire i titoli di preferenza ecco sui titoli di preferenza è importante ricordare che per esempio ci sono quelli dei figli a carico se uno ha figli a carico immaginiamo di avere due figli a carico facendo salva si hanno i figli a carico ma c'è anche molto importante i titoli di riserva per esempio chi ha un titolo di riserva come invalido civile lo deve dichiarare in questo stiamo parlando di titoli di riserva che danno diritto alla riserva del posto per cui questa è anche una diciamo una sezione molto importante speriamo che questo tutorial sia utile a tutti i nostri telespettatori seguitici ancora perché parleremo molto spesso di concorso e di tutte le novità che riguardano questo concorso ordinario arrivederci qui Grazie a tutti